Gente che viaggia, con MSC Crociere, sconto di 200 euro a cabina. Scegli tu la destinazione, il Mediterraneo, con Grecia, Turchia, Spagna, Francia. I mari del nord, con capitali baltiche e i fiordi norvegesi. E perché no, il sole dei Caraibi. Gente che viaggia, risparmio garantito, emozioni assicurate. Chiaramente io la vedo dal mio punto di vista, nel senso che Sanders, è logicamente priva a Barcellona di un giocatore molto importante, con equilibri ammessi, ha anche una squadra molto lunga, per cui sicuramente crea una difficoltà alla squadra. Poi da quel momento in poi l'assente non conta più, c'è un'altra partita da giocare. Sendo oltre all'assenza sicuramente e all'infortunio di Sanders importante, rispondo anche al fatto che siamo cresciuti in intensità difensiva, perché alla fine dovevamo prendere una strada, nel senso che analizzare troppo quello che stava succedendo poteva essere un problema. La strada era quella, secondo me, della fine del secondo quarto, che ci ha mandato in spogliatoio con quel piccolo abbrivio in più, con quel cambio di ritmo in difesa, quel 18 pari, sai anche i numeri a vedere che almeno hai pareggiato in valutazione, in rimbalzi, in palla, in tutto, perché la differenza del primo tempo è il primo quarto, a livello proprio di statistico, invece a livello di energia è un po' tutto il primo tempo. Abbiamo cambiato quella, nel senso che la nostra difesa, magari che provava a essere tattica, ordinata o attenta, era un passo indietro e aveva un'energia in me. Cresciuta quella, le cose facendole con energia, poi il salto del rimbalzo, l'anticipo, il contropiede, abbiamo iniziato a tenere l'uno contro uno, perché nella prima parte il problema è stato anche troppo uno contro uno subito, che ci faceva chiudere in aree, permetteva loro dei tiri piedi per terra, tanto facile, partiva tutto da una cosa, secondo me, molto semplice, ma difficile da fare con loro, che era quella di tenere uno contro uno. A quel punto siamo riusciti anche a essere bravi nella scelta dei tiri, perché insomma comunque abbiamo subito 11 punti, terzo quarto, riuscendo a girare la palla, e siamo andati dietro al momento di Ume, al momento di Helder, al momento di Galli, che per noi, che siamo una squadra che deve crescere, che deve continuare a lavorare, è un piccolo passo in più di maturità, tra virgolettissime, nel senso che siamo riusciti a scegliere meglio i nostri tiri. Noi appena tornata dalla vacanza e già riparte? Ma come fa? Anziché farvi erodere dall'invidia, scoprite anche voi le occasioni Gente che viaggia, Gente che viaggia, risparmio garantito, emozioni assicurate, via Medaglia d'Oro, Stefano Cattafi, 60, Barcellona, Pozzo di Gotto, 090 9707 196